Buongiorno, mi chiamo Georgia Castleman, ho 18 anni e sono una studentessa all'Università di Virginia. Sono di Charlottesville, Virginia. Ho abitato a Charlottesville tutta mia vita. Sono nato nell'ospitale di UVA e io amo Charlottesville. Sto studiando la letteratura inglese perché mi piace molto scrivere. Mi piace anche la musica, particolarmente l'opera e il teatro musicale. Mi piace anche ballare ed arte e viaggiare. Ho una sorella e un fratello e un gatto e due cani e io amo molto la mia famiglia. Il mio colore preferito è rosso e il mio animale preferito è la mucca. Il mio gruppo musicale preferito è 21 Pilots. E mi piace guardare Grey's Anatomy con mia compagna, Kayla. Grazie, ciao!